ciao a tutti e bentornati ancora un'olta su indie gameplay ita siamo nuovamente su x4 foundation perché voglio portarvi un ultimissimo episodio di questa miniserie perché ci sono stati importanti sviluppi questo sarà l'unico spoiler che vi farò poi giocheremo la missione così come viene però uno spoiler interessante che vi voglio fare che non è proprio una spoiler una cosa che vi diciamo scoprirete da soli giocando la campagna degli umani c'eravamo lasciati con quell'asteroide in discorso della doganiera la sfine insomma con l'asteroide dove avevamo recuperato la nostra nave si parlava degli yaki questa cellula criminali in realtà abbiamo fatto importanti scoperte beh prima di tutto che la base degli yaki è qua nel sentiero selvaggio un settore xenon e quindi inizierete a dire ah sono i cattivi e per arrivarci ho dovuto passare attraverso due settori interi addirittura tre anzi xenon ma qua viene il colpo di scena perché due generazioni fa gli yaki furono tagliati fuori perché i portali si spensero quindi vissero con gli xenon furono costretti a fare queste alterazioni del loro corpo quindi queste l'introduzione di queste innesti diciamo un po cyber per diciamo in alcuni casi riuscire a controllare gli xenon quando capitava era una cosa molto irregolare ma soprattutto non farsi uccidere diciamo farsi riconoscere un pochino come loro e contestualmente a questo ho scoperto che la mia nave questa che è la seconda che ho preso che tra l'altro come armi un po peggio perché ha delle armi cinetiche ha delle mitragliatrici questa nave ed è il motivo per cui ho passato in denne tre settori xenon quando veniamo in vicinanza di zone xenon navi xenon stazioni xenon la nave prende una configurazione diciamo informatica xenon così come quando siamo passati vicino a navi yaki la nostra nave è stata riconosciuta yaki questo ci veniva già detto dal nostro assistente l'acquatico il boron in precedenza ma ora ecco la missione mi ha portato e ho indeciso fare due missioni andare a prendermi l'onoreficenza dei pionieri di segais tra l'altro di cui ho scoperto il pianeta anche qui c'è il loro pianeta insomma le loro basi oppure andare all'origine di questa nave seguendo un segnale spaziale che questa nave è stata in grado di decrittare quindi sono arrivato qua non mi hanno ucciso ovviamente mi hanno detto guarda ti raccontiamo non ti vogliamo reclutare però è bene che tu sappia qual è la nostra storia ed è una storia di parecchi e parecchi anni in cui loro hanno dovuto comunque convivere con l'ombra di xenon attaccata alla schiena come dicono loro nel dialogo che comunque adesso non avete visto quindi che succede ora qua abbiamo incontrato uno di un pilota insomma che lavorava per i pionieri segais se non ricordo male scusate non sono io distratto ma che la narrativa di questo gioco vi distraete un attimo non vi dice più nulla e quindi in sintesi dobbiamo salpare e seguirlo adesso ci vuole portare non so dove per prima cosa della notte bello riaverti ho aspettato che arrivasse l'occasione finalmente eccola anche lui è stato modificato secondo questo posto puzza stiamo per dare un'occhiata molto avvicinato al centro al suo centro fumante abbiamo una stazione xenon lì infatti adesso vedete che la vediamo arancione e rosa e ci viene segnata come amica comunque dovremo andare per qualcosa in mente basta che mi contatti vogliamo lasciare la stazione io faccio un save non farò altri gameplay di questo titolo perché attendo un attimino che i video si stabilizzino che magari gli state commentando anche parecchio devo dire ma attendo che magari venga fuori un parere così perché poi so che c'è chi porta anche video live di combattimenti davvero entusiasmanti è cosa che io non so fare cosa a che a cui io non sono ancora arrivato questa è una partita di una quindicina di ore ma è giusto per mostrarvi per l'ennesima volta quanto radicalmente questo gioco può cambiare in base come lo approcciate che cosa mi cambia che le altre volte facevo economia ora l'economia ha avuto meno successo quindi un milioncino scarso ma non guadagno praticamente nulla mi sono dato le missioni e grazie alle missioni ho ampliato quello che domani potrà essere il mio impero perché ho scoperto nuove stazioni nuovi sistemi nuove cose mi sto approfondendo la loro che ora sto cercando di far conoscere anche a voi allora vogliamo la strana stazione questa è una stazione xenon credo non avrei molta occasione di vederla da vicino perché ci attaccano adesso abbiamo questa nave quella lana stazione di amplificazione l'unica sotto il controllo yaki è l'unica loro sarebbe xenon questa tecnologia hai visto cosa possono fare gli yaki pesantemente potenziati con i loro dispositivi ciberanetici questa cosa si è accesa aumenta notevolmente la forza del raggio degli attacchi xenon organico e canic dice che non ha bisogno per la stessa sicurezza protettorato in ultimamente troverà attaccherà questo posto ma lei non capisce no nessuno di loro capisce tutto quello che stanno facendo è nascondersi a prendere tempo fino a quando non soffocheremo qualcuno perderà la ragione e decidere trasformare questa parte della rete dei portali in un mattatoio alla fine nonostante tutte le preoccupazioni e con tutta la tecnologia dell'universo questa gente non ha dove andare se non sempre più lontano da tutto questo sistema questa intera situazione è un enorme bomba a orologeria c'è solo modo per formare tutto questo noto per tutti dobbiamo distruggere l'amplificatore è brutale ma il comando missioni ci ha destato a compiere scelte difficili quelle persone sono state gentili nei miei confronti ma li sacrificherei tutti in cambi della sicurezza ho ragionato la manciata di combattenti che vogliono fermare questa spirale discendente senza preoccuparsi del loro destino questo piano richiederanno preparazione attenta ma tu hai sempre saputo mantenere il sangue freddo quando ok quando io non riuscito distruggi la stazione dovendo distruggere sta stazione di amplificazione e la pilota dato che tutto il tuo amico avete già ispezionato la mercanzia direi che non c'è altro è ora di mettere tutte le carte in tavola quando è un momento da un'occhiata al briefing che ti ho appena inviato che ci daremo un'occhiata è la prima che te ne vado sbattendo il portello non ti sto chiedendo di tradire la terra beh forse lo sto facendo ma sai come tempi disperati eccetera eccetera pensa a chi vuoi che sia destinato alla tua realtà riflettici un po considera tutte le possibili conseguenze non sei la prima persona che tenta questa missione ma tu potresti avere una speranza di successo ok schiera segna navigazione in sentiero salvaggio cioè la missione nazionale può contenere molte le sottomissioni parallele potenzialità c'è lo stato di una stella gestione missioni è pazza non può pensare che noi potremmo mai aliarci con con lei contro il protetto nato in effetti è che ci penso che questa feccia di umanità sta già contemplando il genocidio per salvarsi e non vedo ragione per cui non dovremmo fare lo stesso c'è abbiamo un altro bibio qui avvertiamo il comando missione di tutto questo casino facciamo scaldare i cannoni del sì io in questo caso abbiamo ok vediamo cosa dice lui invece zitto calamaro nessuno ti invita non chiamare calamaro il mio amico boron beh vediamo diamo un'occhiata giusto per capire il destino degli iacchi e qua una scelta multipla salvali da loro stessi distruzione reciproca assicurata pistola fumante sottomissioni apri il ring allora non ci lasciano altra scelta dove allora quale sorprendente terrificante enigma hai rivelato assistente la quella difficile situazione degli iacchi è stata mostrata e ve l'ho spiegata all'inizio del video ci sono così tanti obiettivi contrastanti così tante combinazioni tra cui combinazioni tra cui scegliere come gestirai tutta questa conoscenza allora non ci lasciano altra scelta fino a quando quella stazione di amplificazione esisterà sarà sempre una minaccia per l'umanità per cui dobbiamo distruggerla non credo che si aspettino un sabotaggio ma dobbiamo fare in fretta quindi organizzati di conseguenza il nostro unico vantaggio è che a parte di esaltati il nostro piccolo gruppo di cospiratori molti iacchi sembrano ormai aver accettato loro destino per cui non dovremmo trovarci ad affrontare un intero settore nel momento in cui esploderà tutto il dopo spero che una volta che avremo levato alla terra da sotto i piedi porcani possa insavere forse esiste una via per la riconciliazione da qualche parte ma non farci troppo affidamento sì in realtà non ho idea di dove debba andare ora per attivare una di queste cose però la missione mi dice di andare a una situazione difensiva quindi io me ne andrei è una situazione un po po strana questa anche se in realtà vi non vi nascondo il fatto che non ho capito poi se qualcuno poi nei commenti me lo vuole spiegare quali sono le scelte da fare perché vogliono distruggere questa cosa non ha una gran narrativa sto gioco infatti si capisce poco poi in realtà il gioco poi vi offre tutti il gioco il titolo insomma offre tutta una serie di risorse online da cui potete andare ad attingere ce ne sono senza fine alcune in italiano tantissime in inglese quindi si può andare ad approfondire il discorso del gioco comunque il discorso è quello che vedete è uscito copertura disattivata quindi sono uscito dalla portata di radar di altre navi quindi la nave non sta mascherando la propria traccia diciamo come un camaleonte diventando uguale a quella delle navi che la osservano è interessante questa cosa questa nave anche se vedete che i proiettili sono un po meno belli di quella dell'altra l'altra è un po più veloce un po più potente perché non mi ha teletrasportato ma l'ho preso al contrario probabilmente sta muovendo ah no era una questione prospettiva ok andiamo ok l'avevo preso al contrario ok andiamo mi spiace amico ma dovevamo tenere un basso profilo quindi vabbè abbiamo scoperto questi diciamo pionieri di segaris una sorta di scessionisti terrestri gli yaki che sono dei criminali che in realtà hanno dietro una storia abbastanza difficile ma che sembra inconciliabile con la politica delle altre fazioni infatti per tutti gli altri sono cospirazionisti con gli xenon infatti questo non dovrebbe darmi una fastidio infatti si è attivata la copertura è un po power come cosa la vera questa nave non so se poi e vi chiedo anche qui di dirmelo nei commenti se lo sapete se esista un modulo per poi trasformare una nave magari così mischiare diciamo con quella di altri quella non aveva cos'è da costruzione dei protettorato terrestri ma vedete da meno 30 sono dato più 15 cioè si è disattivata ero un'altra fazione adesso sono tornato giusto infatti se andiamo a vedere dovremmo avere la nostra vediamo se mi ricordo dov'è statistiche relazioni frazioni protettorato terrestre 15 infatti erano meno 30 prima perché erano mascherati con una traccia di un'altra infatti ho detto cavolo il protettorato terrestre siamo siamo noi cioè comunque stiamo viaggiando il viaggio è lungo voy a mondo se non ci schiantiamo contro sta stazione andiamo a morte dobbiamo parlare con il nostro supervisore e vedere un attimino cosa fare gli racconteremo la storia e vedremo un attimo però di distruggere quella stazione non me la sento tra l'altro ci sono anche tanti messaggi da leggere che io non ho letto messaggi ah ma sono messaggi vecchissimi niente questi messaggi qui mi sono sempre arrivati ma non me li sono mai filati ci sono cose che anche dopo 100 ore di gioco non ignoro come è anche vero che ci sono cose che dopo 100 un attore di gioco non ho neanche mai tentato di fare tipo una battaglia con l'exinon io sono sempre stato molto pacifista quindi con l'exinon non ho mai intrapreso però è proprio il bello di questo gioco il fatto che qualcuno magari potrà dire non hai mai fatto niente nel gioco in realtà me lo sono sempre giocato da buon sandbox qual è come volevo io e non ho mai approfondito poi nel momento in cui io dovessi iniziare un altro tipo di carriera un altro tipo di avessi un altro tipo di esigenza da questo gioco quindi di usufruirne come un gioco di guerra avrei sicuramente pane per i miei denti pure in questo caso quindi è proprio il bello del gioco questo comunque adesso attacchiamo qua e andiamo a parlare con la tizia cercando di non fare kamikaze su sulla stazione ho già dato anche in proposito molto bene vediamo la cosa proprio che mi manda fuori di testa è se guardate qua nelle nostre diciamo gestione personale vediamo tutta la gente che abbiamo all'interno delle navi ed è una lista breve però la cosa che noto è che il pilota che abbiamo nella nostra nave di esploratrice la kester finalmente ha raggiunto praticamente quasi le due stelle di addestramento che è una cosa positiva quello corre vabbè comunque andiamo a parlare con la tizia e vediamo così approfondiamo anche questa evoluzione della storia e vediamo andiamo a parlare con la rappresentante dei servizi segreti salve lei potrebbe essere un buon pilota ci costa una barca di soldi perché è bravo come ingegnere troviamo piloti da 2-3 stelle costano anche 60-70 milioni che poi sono piloti che comunque poi possono possono improvvisamente morire cioè fate la missione quella volta sbagliata e vi muoiono e vi muoiono quindi allora a riguardo gli iachi dunque a che punto sono le indagini vediamo sono giunto a una conclusione eccellente dimmi allora questi iachi rappresentano una minaccia organizzata per il protettorato hanno una base operativa che possiamo colpire no non sono organizzati capisco queste conclusioni coincidono con le nostre osservazioni quindi i pirati si comportano in maniera fin troppo erratica in tal caso tenterò di convincere i corpi di intervento a dirottare i loro preparativi di guerra verso la creazione di una task force antiperati di nuovo ottimo lavoro ha reso un grande servizio al sistema solare il mio unico rimpianto è non essere riuscito a scoprire cosa sia successo al cadetto Shinomon e fa parte di loro quella stazione amplificazione sicuramente non sarà facile distruggere senza supporto del protettorato va bene ho tra l'altro sbloccato due obiettivi su su steam del gioco di cui è uno non ne ho mai sentito parlare quindi completando questa ricerca e accesso consentito quindi ho ottenuto l'autorizzazione per accedere al nucleo interno del sistema solare richiede appunto anche questa quest l'espansione culla dell'umanità quindi ora posso ufficialmente entrare nel sistema solare senza essere inseguito vediamo un po' vedete in contatto con questo busta la busta e prendi fra merita con la situazione politica di fuori del sistema solare va bene quindi finalmente abbiamo l'accesso al sistema solare quindi possiamo tornare alla terra normalmente non da foggiaschi abbiamo concluso questa quest ora avremo un'altra cosa stiamo facendo veramente più scarpe contemporaneamente dobbiamo parlare allora abbiamo due ricompense siamo assistente onorario dei pionieri segaris e poi abbiamo anche questa ricompensa a eroe dell'umanità quindi dobbiamo andare a prendere dove? alla base orbitale di rifornimento quindi io a sto punto vi salterei tutti i convenevoli e vi riaggancerei riaggancerei quando vado a prendere quella cosa i corpi di infermio tra vento per il fatto sapere che la nave è lasciata stazionare di fronte al nostro quattro generale è in effetto intentativo di intimidazione ma semplicemente una nottame è decommissionato potrebbero richiedere alcuni ritrochi finali per tornare a pieno in operativo ma sono sicuro che dovrei rimanere a farne uso invierò la posizione della nave e consideralo una ricompensa per i tuoi sforzi ecco volevo andare a improvvisando andare a a farla a prendere il premio e invece mi hanno regalato sta nave bella bellissima cos'è? canto del cigno di delire voglio reclamarla me la danno come ricompensa e poi andiamo a prenderci anche l'altra ricompensa guardate quanti moduli ha ok che spettacolo cos'è un incrociatore no? devo capire come farla a diventare mia questa nave grossa devo capire come reclamarla reclama nessun membro dell'equipaggio a bordo per reclamare questa nave e vado io no no non ho membri a bordo di questa nave possibile che poi che poi tra l'altro devo andare qua adesso per prendermi questa qua sarà una mia nave ma voglio prenderla subito quindi adesso cerchiamo il modo di possedere questa nave provo a scendere io personalmente a prenderla top fermati scansiona non posso scansionare l'altro nave non può toccare questo oggetto informazione voglio reclamarla vabbè qualche modo adesso farò è lo stesso problema che avevamo avuto nello scorso video dove dovevo prendere questa nave qui e alla fine me l'aveva comunque calcolata come presa però al momento non non me la segna devo capire se a bordo o del personale che posso mandare a prendere allora vediamo un attimo sulla nave eh no non ho nessuno mannaggia allora aspettate una vediamo se ho qualche nave qua in vicinanza allora intanto la nave resterà qui quindi quindi se la nave resta qui noi continuiamo con la nostra missione vediamo se me la segna proprio come missione attiva no ricompensa promosizione pianeta terrestri vediamo un po' beh imposto come attivo abbiamo quella quindi fatemi fare un save della partita che non vorrei mai che allora anzi no facciamo una cosa facciamo un save e facciamo subito una prova prendiamo un altro pilota che ho lo mando qui subito a pilotare questa mia nave in modo da provare a conquistarla perché questa mi servirebbe una nave non so se è una fregata o cosa però ci proviamo proviamo a prenderla ok che cosa ho fatto ho sacrificato uno che non il mio dipendente che aveva l'altra nave uguale a quella che sto guidando adesso gli ho detto ha lavorato per me da un'altra parte ho cliccato su di me e l'ho fatto lavorare come marine quindi in questo caso andando a premere il tasto F reclama lui andrà là con la capsula eccolo guardatelo adesso si aggancerà alla nave se non ricordo male e poi dovrebbe apparirmi anche la possibilità di viaggiare di viaggiare la sta reclamando ci metterà un po' probabilmente sta provando il punto dove abbordare signora intanto è una comunicazione aspettiamo aspettiamo che la reclami che questa è una gran bella nave e poi andrò a prendere la mia onorificenza direttamente in la base principale fermatevi per favore effetteremo una scansione nel vostro inventario dov'è la polizia e quindi va bene lascio il carico vi lascio il cristallo instabile ok intanto mentre ci hanno ispezionato appena siamo stati premiati abbiamo ah l'ha distrutto il cargo ok la nave l'abbiamo reclamata credo dovrebbe essere nostra no non ancora non ancora non ancora aspettiamo un attimo allora ok ho lasciato il tizio di prima a tentare di abbordare la nave anche se in realtà non ci sta riuscendo comunque almeno c'è lì lui e so che cosa dov'è la nave nel momento in cui cercherò di andare a prenderne possesso perché sarà un importante cambio vediamo un attimo se ce l'ha fatta ma dubito vi chiedo anche suggerimento come fare in quel caso a riscattare quella nave perché lui è ancora lì che ci prova ma probabilmente senza successo perché comunque è da solo dentro non c'è nessuno però questa è testimonianza del fatto che su X bisogna saperle fare le cose e farle con le dovute dotazioni di personale e di equipaggiamento comunque stiamo andando a prenderci il livello di eroe per il protettorato terrestre quindi parleremo con il mega super mega capo Martha Martha Petterson riceviamo il grado per aver avvenuto il protettorato terrestre concedermi di conferirti questo nuovo grado come riconoscimento per la tua realtà ti viene riconosciuto l'accesso illimitato al sistema solare chiaramente i benefici di questo grado non si limitano a questo qualora non ti dimostrassi più meritevole della fiducia intera riposta in te questi privilegi saranno avvocati sì sarebbe l'ultimo dei miei problemi comunque dovrà anche capitare che alcune organizzazioni terrestre ti contattino per chiedere il tuo aiuto in futuro ancora una volta il popolo terrestre ti ringrazio ok mi hanno dato la qualifica di eroe ma anche un compenso pecuniario o no? no evidentemente no vediamo possiamo acquistare un progetto e ora tanti ora li possiamo acquistare che costano anche tanto per costruire tutte le basi e anche i progetti per le navi terrestri costruire da Tokyo 243 milioni solo del progetto anche per equipaggiamento armi missili droni fantastico per le stazioni vabbè andiamo a vedere come ultima cosa le licenze che possiamo fare è riusciata la polizia ah 156 mila niente offerte commerciali 10 milioni vabbè niente dai bene torniamo alla nave e niente ora andremo a cercare di prendere possesso di quella nave anche se in realtà potendo entrare con che probabilmente il tizio che ho mandato a fare l'abordaggio è da solo e soprattutto non ha la qualifica per fare l'abordaggio quindi dovrei andare dentro il sistema sol probabilmente e andare in uno spazio porto e prendere non sono qui dovrei andare a prendere la luna eccolo lì stazione orbitale di supporto no cantiere terrestre forse questo dovrei andare qua migliorare la nave e dovrei andare lì infatti adesso vado lì che comunque il percorso minchia se è lungo da fare almeno riesco a prendere abbastanza personale per poter fare un abordaggio come si deve al povero tizio lì che ormai non sa più cosa fare comunque ragazzi io vi lascio con questo abbiamo giochicchiato ancora un po' la lore per me ufficialmente finiamo qua la miniserie ovviamente ora in mano vostra con i vostri commenti a farmi sapere che cosa ne avete pensato cosa ne pensate e cosa avete pensato appunto in questi episodi riguardo la lore e comunque complessivamente riguardo a un aspetto di X4 Foundation che non tanti portano online alla prossima e ciao ciao